Il treno regionale, 10, 5, 2, 3, di Trenord, delle ore 16.42, per Mortara, è in partenza dal binario 1. Ferma, a, Milano-San Cristoforo, al Bairate-Bermezzo, a Biategrasso, Vigevano, Valona-Nomellina. Il treno regionale, 10, 5, 2, 5, di Trenord, delle ore 17.08, per Alessandria, è in partenza dal binario 1. Ferma, a, Milano-San Cristoforo, al Bairate-Bermezzo, a Biategrasso, Vigevano, Valona-Lomellina, Mortara, Olevano, Valle-Lomellina, Fartirana, Torre Beretti, Valenza, Valmadonna. Il treno regionale, 53, 04, di Trenord, proveniente da Mortara, delle ore 17.18, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 10, 5, 1, 0, di Trenord, proveniente da Alessandria, delle ore 9.12, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 26, 75, di Trenord, delle ore 17.53, per Alessandria, è in partenza dal binario 1. Ferma, a, Alba-Irate-Bermezzo, a Biategrasso, Vigevano, Mortara, Valenza. Il treno regionale, 25, 42, di Trenord, proveniente da Alessandria, delle ore 8.39, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla.